Voltri è uno dei vertici, a proposito, del triangolo industriale genovese che fa Ponte X, San Piel d'Arena, Voltri. E in questo triangolo, una trentina anni fa, credo ormai, questo slang, questo gramlo è scaduto, ma si poteva sentire nelle notti insonni vagabondare gente che parlava presso a poco così. Aveva delle lacce con dei tipi assurdi, si sconvolgeva come non so che, si era coinvolto con delle pivelle, però voleva anche intripparsi in una storia come... Beh, lì, pazzesco, mi... Allora dico me, cioè non ho capito, ti fai ancora di sti sbali qua, ma mollaci un attimo, datti una mosa che sei fuori di testa, queste storie non esistono... Beh, lì, pazzesco, mi... Non starmi a fare dei racconti allucinati, mi sembri un attimo in un trip che è guai mio, ma non te la vuoi dare che un tipo regolare non fa di sti smaroni specialmente con la gente, ok... Belli, pazzesco, mi... Ok, mia raga, ora vi devo proprio mollare, mia... Perché c'ho troppi cassini da fare... Comunque mia tranchi che ce lo vediamo domani sempre alla stessa ora al solito posto, mia... Sempre on the road gaming, on the road gaming... Perché dopo tutto devo dire che con voi altri... Dopo tutto devo dire che con voi altri... Ci sbalo bene... Ci sbalo troppo bene... Ci sbalo bene... Ci sbalo troppo bene... Vi troppo bene... Vi troppo bene... Ci sbalo bene... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti